Ben ritrovati a tutti qui su Emilia Romagna Meteo da Andrea Raggini. Ci siamo, siamo giunti agli ultimi giorni di questo anno del 2023. Con che tempo andremo incontro alla giornata di San Silvestro e soprattutto inaugureremo il nuovo anno, il 2024? Purtroppo non ho grosse novità. Infatti la nulosità aumenterà giorno dopo giorno e andremo incontro a un finale di questo anno grigio su quasi tutta la nostra regione. Le giornate di venerdì 29, sabato 30 e domenica 31 risulteranno spesso grigie sulla nostra regione, quindi in Emilia Romagna. Avremo cieli spesso coperti sulle pianure per nuvi basse e qualche banco di nebbia nella prima parte della giornata, specialmente al confine con Lombardia e Veneto, mentre in Appennino avremo nuvolosità a tratti compatta. Nuvolosità che aumenterà proprio tra venerdì e sabato. Quando un flusso più umido di origine atlantica porterà anche qualche goccia di pioggia. Venerdì ritroveremo qualche goccia di pioggia sul crinale al confine con la Toscana, sui settori centro-occidentale. Maggior presenza di rovesci invece nella giornata di sabato, che si aprirà con solo qualche goccia di pioggia sul Piacentino. Poi le precipitazioni tenderanno ad aumentare tra il pomeriggio e la serata, ma queste precipitazioni poi diminuiranno durante la notte. Tempo un po' più soleggiato su parte della Romagna, soprattutto sulle aree collinari centro-orientali. La giornata dell'ultimo giorno di questo 2023, quindi anche la notte di San Silvestro, vedrà un nuovo debole peggioramento. La giornata inizierà con cieli spesso grigi, qualche schiarita in più sulla Romagna. Poi nel pomeriggio precipitazioni in aumento tra Piacentino e Parmese. E proprio in serata qualche debole precipitazione potrebbe sfociare anche sulle pianure centrali delle Mille, successivamente in Romania. Si tratterà di veloci rovesci, solo qualche goccia di pioggia sulle pianure, precipitazioni un po' più consistenti sul crinale, dove tornerà al protagonista il vento da sud-ovest. Quindi gli ultimi minuti del 2023 e il 2024 vedranno vento a tratti sostenuto da sud-ovest su buona parte del nostro appennino. E temperature in nuovo vento. Avremo temperature sempre miti tra venerdì e domenica, ma anche il primo giorno del 2024. Valori minimi spesso compresi tra 6 e 9 gradi, valori massimi che oscilleranno spesso tra 8 e più 12 gradi. Ma sulla Romagna valori anche più alti, soprattutto tra il 31 e il 1 gennaio 2024. Valori che non dovrebbero, anzi dovrebbero superare anche i 14-15 gradi. Quindi non cambierà sostanzialmente niente nei prossimi giorni, ma almeno fino al 4-5 gennaio la situazione rimarrà simile. Da notare la possibilità che proprio tra il 31 e il 1-2 gennaio le temperature possano scendere in appennino con la comparsa di solo qualche fiocco di neve sulle vette, ma poi un nuovo aumento delle temperature. Almeno fino al 4-5 gennaio la situazione non cambierà, quindi andremo incontro a giornate piuttosto miti e assenza di una vera e propria perturbazione, perché quella del 31 sarà solo qualche goccia sparsa e molto veloce. Il primo vero peggioramento al momento si intravede per l'epifania, ma siamo lontanissimi e potrebbe cambiare ancora una volta tutto. Per questo appuntamento è tutto, continuate a seguirci ogni giorno qui su Emilia Romagna Meteo.